Allora, su un applauso grande vorrei qui in passarella i nostri zorelli, Massimo e Papa Un applauso bello, sua musica, Massimo e Papa Io mi aspettavo, ma Massimo non completino anche loro, ma mi sa che cosa, ma perché è il palazzo della scena E il sogno di tutti è avere un negozio, allora, vi faccio venire in questa zona, così almeno vi vedono tutti quanti Perché Massimo, tra l'altro, voleva ringraziare, io ho fatto un accenno di ringraziamento, però so che ci teneva davvero Io voglio ringraziare tanto la città di Anomarina, che ci ha dato questa possibilità di ottenere il nostro studio Un bellissimo negozio per Yamai in Anomarina In particolare voglio ringraziare, perché sono veramente stati caldi, veramente caldi I nostri vicini commercianti che ci hanno accolto con veramente tanto, tanto caldo In particolare voglio ringraziare, la polisteria, la pizzeria del caffè, il melograno, la pizzeria Tottoria da Serafino Io lo chiamo Giorgio, ma è Serafino Il Calfè del Mar, che è un bellissimo amico Il Sport, l'Aladino, la Saltiglia, Rossi, che è un nostro vicino Rossi sa Saltiglia? Ottica Signorello Signoriello, scusate E chiaramente anche Casamare che ci ha aiutato anche a ottenere questo grande locale Ci ha aiutato anche nella selezione delle ragazze che abbiamo qui dentro Che veramente sono veramente veramente bravi Ok? Bene, grazie, l'applauso Un saluto della moglie, tutti ci aspettiamo Vi aspettano qui, tagliamo a mai signori, dunque quando vorrete venite qui, tagliamo a mai, vi aspettiamo Grazie